Musica Isernia pubblicate le nuove indennità della Giunta, 9.660 euro mensili a Castrataro, quasi 4.500 agli assessori. Una banconota da 10 euro caduta a terra in un negozio di Isernia finisce in rissa il diverbio tra due cittadini stranieri. La figura di San Pietro Celestino come punto di contatto privilegiato tra Abruzzo e Molise, presentato il libro di Angelo De Nicola. Turni straordinari dei medici del 118 per risolvere il problema della demedicalizzazione, è la proposta del Comitato Santissimo Rosario. Cerro a Volturno scivola dal costone della montagna e si schianta sul tetto di un negozio, tragica fine per un grosso esemplare di Cervo. Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di TVI Molise. Allora in apertura la notizia che avete sentito anche dai titoli, un episodio che è avvenuto nelle ultime ore a Cerro a Volturno, scivola dal costone di una montagna per poi schiantarsi sul tetto di un negozio. Questa è la tragica fine che purtroppo ha fatto un esemplare di Cervo, ma ci dice tutto in questo servizio Domenico Marzocchella. Il grosso palco, le corna, che i vigili del fuoco si sforzano di fare entrare in una busta nera, tipo quella dell'immondizia. Il resto della carcassa, coperto allo stesso modo, è la triste fine di un Cervo, a Cerro al Volturno. Sembra sia scivolato dal ripido costone di montagna alle cui pendici inizia il paese. Si è schiantato sul tetto del salone di una parrucchiera. Probabilmente l'esemplare, un maschio di grossa taglia, è morto sul colpo o magari di paura. Sarà l'esame autoptico presso l'Istituto Zooprofilattico di Sernia ad accertarlo. Il fatto, racconta ai nostri microfoni la titolare del negozio, è accaduto ieri. Ieri mattina, verso le 10, 10 e mezza, stavo facendo una piega, stavo proprio qui. Abbiamo sentito un botto grande, pensavamo che erano delle pietre. Invece mia figlia che stava lavorando dentro, perché il cervo era caduto verso quel lato, ha sentito meglio, ha detto per me, sicuramente qualche animale, ha detto. Ho chiesto a mia figlia, vedi se riesci a salire tu e vai a controllare che cos'è, perché le pietre non ci stanno, sicuramente è quell'animale, come ho visto, ma non ho visto bene. Poi è andata a lei e ha visto che era un cervo. Da queste parti, con il paese che sorge in mezzo ai boschi di querce dell'Alta Valle del Volturno, incontri ravvicinati con gli animali che li abitano non sono infrequenti. Una cosa così, però, ci dice l'intervistata, non si era mai vista. No, qui ce ne stanno, in giro ci stanno, perché comunque stiamo in mezzo alle campagne. Però, fatto così, no, perché magari le incontriamo per strada, però no, non era successo. Intanto, in attesa dello spostamento, le mosche cominciano a infierire sulla parte della carcassa rimasta scoperta, tutto intorno, il leggero vociare dei soccorritori e i rumori, i suoni che vengono dal bosco. E nella serata di ieri una donna si è ribaltata con la sua auto lungo la strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni, in località Ponticelli. Subito la 46enne è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai volontari della misericordia di Termoli e trasportata per tutti gli accertamenti del caso presso il pronto soccorso del Santimoteo sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Hanno litigato per una banconota da 10 euro caduta a terra all'interno di un'attività commerciale di Isernia e in questo modo che finisce in rissa un diverbio tra due cittadini stranieri. Ma ci dice tutto in questo servizio Carla Marino. Una violenta lite scoppiata tra due migranti per pochi spiccioli, per la precisione per una banconota da 10 euro caduta a terra all'interno di un'attività commerciale e la cui proprietà sarebbe stata rivendicata da ciascuno dei due uomini. È successo ieri sera nei pressi della stazione di Isernia. A quanto sembrerebbe, tra le ipotesi al vaglio relativamente alla ricostruzione dei fatti, non si esclude che il denaro possa essere scivolato dalle tasche di uno dei due cittadini stranieri e finito sul pavimento del locale per essere successivamente raccolto dall'altro, che avrebbe poi rifiutato di restituirlo. Al momento si tratta solo di una delle possibili ricostruzioni. Quel che è certo è che ben presto il diverbio si è trasformato in un acceso alterco con relativa zuffa. Tanto che sul posto, per sedare la lite e riportare la calma, si è reso necessario l'intervento della polizia, con la presenza di due pattuglie della squadra volanti arrivate dalla questura di via Palatucci. Gli agenti hanno sentito i testimoni presenti e raccolto informazioni. Poi hanno accompagnato uno dei due protagonisti della rissa in questura, mentre l'altro uomo si è dato alla fuga. Dopo le formalità di rito, poiché in assenza di una denuncia di parte, non sono stati assunti provvedimenti di rilievo. E durante un controllo stradale a Campobasso, i carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo tre uomini originari di San Severo. Il comportamento dei tre ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisire l'auto, trovando nel cofano strumenti utilizzati per forzare porte e finestre, tra cui chiavi a pappagallo, guanti, forbici e cacciaviti. I tre sono stati denunciati con l'ipotesi di reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Poltrone d'oro a Isernia. Sono state pubblicate le nuove indennità del sindaco, ma anche degli assessori comunali. Si va dagli oltre 9 mila euro per Castrataro fino agli oltre 4 mila mensili per i nuove assessori e al presidente del Consiglio. Parliamo di spese che girano intorno ai 53 mila euro al mese, ma ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Poltrone d'oro, questo è il titolo che abbiamo dato a questa nostra notizia che oggi sicuramente manderà il pranzo di traverso a tutti gli iservini, specie quelli che protestano in gran numero per i più svariati motivi, dalla sporcise al degrado fino alle notti silenziate da autorità dal sindaco, provocando la fuga dei giovani e danni economici per i locali della Movida, come fatto notare a più riprese dall'ex consigliere Nicola Moscato. Siamo il capoluogo di provincia più piccolo d'Italia, ma c'è tanto da fare e abbiamo la fortuna di avere l'aggiunta più numerosa, ben 9 assessori. Nello stesso tempo non badiamo a spese, come vedremo tra poco. La decisione sottotiro è quella messa nero su bianco con la determina numero 523 dell'8 maggio, a firma del nuovo segretario generale Giovanni Bruno. Titolo Nuova determinazione e indemnità di carica di sindaco, presidente del Consiglio e assessori. Nel dettaglio, dal 1 gennaio 2024, a Piero Castrataro vengono pagati 9.660 euro al mese, alla vice sindaco Federica Vinci 5.313, al presidente del Consiglio Sergio Sardelli e dai 9 assessori ben 4.347 sempre ogni mese, indemnità d'oro, ma queste retribuzioni previste dalla legge per carità sono commisurate ai risultati di una sana ed efficace gestione amministrativa? Chi lo sa, forse per parlare dell'efficienza della giunta bisognerebbe rivolgersi a qualche santo, magari a San Pietro Celestino, la cui statua solo domenica scorsa è uscita in processione senza il gonfalone della città di Serbia, caso unico nella storia del capoluogo Pentro. Ma tutto va bene a Palazzo San Francesco, nessuno si indigna, neanche la minoranza, anzi, con questa minoranza Castrataro può dormire sogni d'oro. Andiamo a Venafro, nei prossimi giorni la rete ferroviaria italiana eseguirà degli interventi di manutenzione sulla ferrovia rendendo necessaria la chiusura notturna dei passaggi a livello su via Santo Smirda e su via Gregorio Magno. A renderlo noto è il sindaco Alfredo Ricci, quindi la chiusura del passaggio a livello di via Santo Ormisda dalle ore 22 alle 6.30, nelle notti del 22 e 23, 24, 25 e 27 e 28 maggio. Inoltre la chiusura del passaggio a livello di via Gregorio Magno sempre dalle ore 22 alle ore 6.30, delle notti a cavallo del 23 e 24 maggio, 24 e 25 e 27 e 28 maggio. Ma torniamo a Disernia e parliamo ancora della vicenda della Polizia Municipale. Il sindacato CSA torna a premere l'acceleratore per ottenere l'autonomia del corpo di polizia locale come a loro dire previsto per legge. Fino ad allora si andrà avanti con lo stato di agitazione di cui ci parla in questo servizio Carla Marino. Il sindacato CSA aspetterà la convocazione in prefettura. Se il sindaco non arriverà con un atto già adottato che stabilirà l'autonomia del corpo di polizia municipale, si andrà avanti con lo stato d'agitazione. È quanto emerso dalla conferenza stampa convocata dal sindacato che rappresenta la maggioranza degli agenti in servizio all'indomani dall'assenzione per la partecipazione all'Assemblea sindacale indetta in concomitanza con la processione di San Pietro Celestino. Il segretario regionale Ettore Cibelli ha ripercorso le tappe della vertenza dalla revoca dell'Assemblea per il Carnevale europeo al tavolo in prefettura dove il sindaco Piero Castrataro aveva promesso di risolvere la questione in 30 giorni ai successivi confronti tra il primo cittadino e la sigla sindacale. Tutto ruota intorno al nodo dell'autonomia del corpo di polizia municipale che attualmente dipende da un dirigente di un altro settore, ipotesi preclusa dalla legge quadro sulla polizia locale. E il sindaco praticamente ci convoca asserendo di voler discutere con noi sul perimetro dell'autonomia del corpo. Ma non c'è un perimetro di autonomia, c'è l'autonomia e basta. Altrimenti se non c'è l'autonomia, non solo per un fatto ordinamentale, ma anche per un fatto di gestione operativa, di risorse umane, risorse economiche e finanziarie, porto un esempio, ogni qualvolta ci sono le consultazioni elettorali ai dipendenti dell'ente viene stabilito un monte ore di straordinario elettorale. In questo caso abbiamo visto cosa significa non avere l'autonomia della polizia municipale. Perché invece di avere il budget al quale il comandante poteva attingere e disporre i propri uomini e donne di un servizio sulla strada, si è vista una determina che fa partire lo straordinario elettorale dal primo giugno prossimo. Anche per Cibelli, come per Di Baggio, sarebbe utile avere un assessore al ramo. La legge, anche la nostra legge 65 dell'86, che è sull'ordinamento della polizia locale, prevede che la polizia municipale, il comandante, debba dare conto solo ed esclusivamente al sindaco. A chi aveva paventato la possibilità che l'assenza durante il corteo religioso per il Santone potesse configurare un'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, il sindacato risponde con fermezza. Non è un'interruzione di pubblico servizio perché stiamo facendo azioni sindacali. Se qualcuno la pensa diversamente, si faccia avanti. Ed ora le elezioni comunali, presentata a Campobasso la lista del Partito Democratico. Il segretario regionale del Partito Bontempo annuncia l'arrivo prevista per sabato della leader del PD Elish Line, ma ci dice tutto in questo servizio Francesco Adamo. Il Partito Democratico presenta la lista per le prossime elezioni comunali di Campobasso, una lista forte e pensata con attenzione che racchiude persone di grande competenza con a cuore la città. Oggi presentiamo la lista del PD e il PD è un elemento fondamentale all'interno della coalizione insieme al Movimento 5 Stelle e ai socialisti, ai verdi e sinistra italiana. Il PD ha dato un contributo sostanziale alla stesura del programma, un programma, come abbiamo ribadito più volte, che non lascia indietro nessuno, che si basa sull'idea dell'inclusione. Della lista del PD io mi onoro poi di aver ricevuto questo incarico di rappresentare tutta la coalizione e nella lista del PD ci sono competenze amministrative, professionali, importanti. La lista è fatta di persone che hanno già amministrato e persone nuove, ma tutte con una grande competenza che vogliono mettere al servizio della coalizione, al servizio della città quando noi amministreremo. Il segretario regionale Bontempo annuncia l'arrivo della leader del partito Elie Schlein sabato sera a Campobasso. E questa lista che oggi presentiamo con grande orgoglio troverà poi il punto massimo sabato prossimo con l'arrivo della segretaria nazionale Elie Schlein qui a Campobasso in piazza Municipio. E prosegue il tour elettorale di Aldo Patriciello nelle regioni meridionali in vista delle elezioni europee nei giorni scorsi ha fatto tappa in Puglia, a Lesina, Cerignola, Stornara, Stornarella, Lucera e San Marco in Lamis. Nella giornata di ieri Patriciello è stato in Campania a Santa Lucia di Serino, Mercato San Severino, Teano e Somma Vesuviana. E torniamo sulla questione demedicalizzazione del 118 perché il Comitato Santissimo Rosario ha una proposta e cioè prevedere turni straordinari dei medici per risolvere proprio questo problema, proposta di cui ci parla in questo servizio Domenico Marzocchella. Postazione del 118 di Venafro garantire la presenza del medico anche di notte attraverso turni straordinari del personale di Venafro integrato con quello proveniente da altre postazioni. È la proposta illustrata ieri dal Comitato Santissimo Rosario al direttore generale Asrem Giovanni Di Santo verso la quale ci sarebbe già stata un'apertura. I medici del 118 di Venafro preventivamente interpellati avrebbero dato la loro disponibilità. Sono solo due medici abbiamo detto va bene temporaneamente li fate fare un po' di straordinarie se sono disponibili e io ho contattato questi medici e sono disponibili a coprire dei turni magari con l'aiuto anche di altri medici di altre postazioni del 118 e loro sono disponibili poi se dovesse rimanere qualche turno temporaneamente scoperto di notte vabbè temporaneamente ci facciamo così insomma facciamo in questo modo però vogliamo assolutamente abbiamo chiesto che ci sia questa postazione perché a Venafro non c'è niente non ci sono altri medici che possono supplire questa emergenza ne convince il comitato la proposta ASREM degli specialisti sulle automediche con tutte le postazioni del 118 demedicalizzate ma vedi questa è una soluzione che a noi ci sembra una soluzione fasulla proprio ma non solo per la nostra postazione per tutte le postazioni un medico deve arriva prima l'infermiere poi chiamano il medico che deve andare quindi altro tempo che si perde perché per il paziente magari in una fase una condizione critica e quindi è un fatto negativo per l'assistenza per l'emergenza ma noi diciamo ma scusatemi ma se voi non fate il corso che avete previsto che era stato già previsto dal passato dal direttore generale precedente se non fate i corsi come volete pretendere che ci siano dei medici in più seppure ci saranno e poi comunque noi diciamo vuol dire che c'è un motivo se i medici non vogliono venire e allora risolvete i motivi risolvetele in un altro modo pagandoli di più dandogli per esempio facendo l'assunzione di questi medici presso il pronto soccorso e poi pagare dislocati anche nell'emergenza territoriale ambulatori pediatrici chiusi nei giorni festivi e prefestivi la struttura commissariale del Molise ha avviato un progetto per garantire l'apertura degli ambulatori pediatrici anche quando è difficile reperire proprio un pediatra l'obiettivo è quello di ridurre l'accesso a pronto soccorso per codici bianchi e verdi e di diminuire la spesa sanitaria il servizio sarà attivo per un anno presso i presidi ospedalieri di Campobasso Esernia, Termoli e Dagnone e sarà disponibile dalle ore 8 alle 20 nei giorni festivi e dalle ore 14 alle 20 nei giorni prefestivi ed ora spazio alla nostra rubrica settimanale che ci dice quali sono gli annunci di lavoro previsti nella nostra regione rubrica curata da Pierino Coppola stai cercando un lavoro e non riesci a trovarlo potremo avere la giusta soluzione per te con la nuova rubrica firmata TV Molise vi mostreremo una serie di annunci settimanali a cui potrete candidarvi facilmente è richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di autista nel settore riparazioni meccaniche di autoveicoli si propone contratto a tempo pieno ed indeterminato i requisiti richiesti sono l'essere in possesso della patente C, C, E, D, E mentre non è richiesta precedente esperienza nella mansione la sede di lavoro è ubicata in Montaquila il codice identificativo della domanda è il numero 40 Sono richieste due risorse da inquadrare nel profilo di bartender nel settore della ristorazione si propone contratto full time a tempo determinato della durata di 6 mesi i requisiti richiesti sono l'avere il diploma di scuola superiore ed è inoltre necessario aver avuto una precedente esperienza nella mansione mentre non è necessario essere automunito la sede di lavoro è ubicata in Isernia è richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di carpintiere nel settore dell'edilizia si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi i requisiti richiesti sono l'essere in possesso del diploma di licenza media e bisogna essere automunito altresì non è necessaria precedente esperienza nella mansione la sede di lavoro è ubicata in Riccia il codice identificativo della domanda è il numero 38 per candidarvi alle posizioni aperte inviate il curriculum vita e firmato all'indirizzo di posta elettronica ido.is schiocciola moliselavoro.it entro i termini previsti per ciascun bando indicando altresì nell'oggetto della mail il numero della ricerca di personale o il profilo professionale per cui ci si candida ed ora le immagini della carrese di Porto Cannone nel corso della quale il carro arancione dei giovanetti ha tagliato il traguardo davanti ai giovani e ai giovanotti e ce ne parla in questo servizio Cristian Ciarlante per il terzo anno consecutivo il carro dei giovanetti si è giudicato la carrese 2024 di Porto Cannone manifestazione molto sentita e attesa in onore della Madonna di Costantinopoli che come da tradizione si celebra lunedì dopo la Pentecoste dopo il sorteggio avvenuto alle 12 in piazza Scanderberg e la benedizione che si è tenuta poco dopo le 16 i carri si sono incamminati lungo il percorso fino all'arrivo il carro arancione che vedete nelle immagini del quotidiano è arrivato al traguardo davanti ai giovani e ai giovanotti una corsa che i giovani e tiegli hanno dominato dal primo all'ultimo metro forti anche del sorteggio che gli ha concesso la fortuna di partire per primi una corsa intensa ed entusiasmante seguita come sempre da tanti spettatori e sostenitori che per tutto il percorso di circa 4 km hanno urlato e tifato fino alla conclusione della gara con l'arrivo in paese la figura di San Pietro Celestino come punto di contatto privilegiato tra Abruzzo e Molise e se ne è parlato nel corso della presentazione tenutasi ad Isernia del libro di Angelo De Nicola nell'evento promosso dal comitato per l'annessione della provincia Pentra all'Abruzzo il servizio è di Carla Marino un percorso che collega l'Aquila a Isernia e che si incarna nella figura di San Pietro Celestino un simbolo se vogliamo della riunificazione delle due regioni a cui aspira il comitato per l'annessione della provincia Pentra all'Abruzzo che ha organizzato in occasione della festa del Santo Patrono un dibattito culturale con Angelo De Nicola autore del libro Il primo giubileo della storia San Pietro Celestino è perdonanza diciamo la stessa cosa questa bolla del perdono così particolare e così attuale qual è quella di Celestino V siamo in un momento particolare alla vigilia del giubileo del 2025 perché il primo giubileo perché quello di Celestino anticipa il giubileo di Bonifacio del 1300 proprio con la perdonanza e alla vigilia di quello che porterà a Roma l'anno prossimo 39 milioni di pellegrini credo che si aprano delle possibilità e degli scenari per i nostri territori Isernia è capitale celestiniana della pace così l'abbiamo definita in un progetto della fondazione Carispa che in particolare insieme all'Aquila certamente a Sulmona dove c'è la casa madre nella Marsica dove c'è il grande libro di Ignazio Silone l'avventura di un povero cristiano e a Ferentino dove è stato sepolto dopo la morte a Fumone fino al 1327 il nostro Celestino V L'evento al vecchio lavatoio è stata l'occasione per ribadire i contatti indissolubili esistenti tra due territori un tempo uniti una battaglia quella per cui lotta il comitato non solo politica ma anche culturale è San Celestino V che in Molise riveste la funzione di copatrono è anche patrono secondario di Sernia ma è anche padrono secondario dell'Aquila e quindi diciamo potrebbe essere una bella candidatura per la regione Abruzzo a cui sarà aggregata la provincia di Sernia siamo oramai a metà del percorso il problema non sarà assolutamente nella raccolta delle firme perché a 5.000 firme ci arriveremo presto noi contiamo di chiudere la questione a settembre e questa sera torna il consueto appuntamento con Live Today programma condotto da Pietro Tonti l'argomento su cui verterà la puntata di questa sera accentrerà l'attenzione sul convegno Summit del Turismo Slow che si è svolto presso l'auditorium Unità d'Italia ad Isernia ospiti della trasmissione Maria Luisa Angelone docente di geografia turistica presso l'Isis Fermi Mattei di Isernia Tamara Isler dirigente dell'Isis Fermi Mattei e Daniele Saia presidente della provincia di Isernia nonché sindaco di Agnone vi aspettiamo dunque alle ore 21 e 15 in diretta sul canale 12 del Digitale Terrestre in diretta sulla web tv al sito www.tvmolise.it e in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook bene questa era anche l'ultima notizia a me non resta che ringraziarvi della cortesia attenzione ora le notizie abruzzesi curate dalla QTV io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG e arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.